Il nostro ospite in studio, come anticipavamo, si tratta di Francesco Scarabuzzi, co-founder dell'iniziativa Il pane sospeso. Benvenuto Francesco. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quest'iniziativa nasce qualche tempo fa, è molto bella, un'iniziativa davvero degna di nota, non per nulla ne avevamo fatto già menzione, però l'iniziativa è andata avanti, si sta strutturando, per cui ricordaci che cos'è il pane sospeso e quali sono gli sviluppi maturati in questi mesi. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato. Il pane sospeso è una proposta di cittadinanza attiva che facciamo alla nostra comunità di San Giovanni Rotondo. Cerca di raccogliere dei fondi per favorire l'acquisto del pane per le famiglie più bisognose della nostra comunità. L'iniziativa nasce ufficialmente il 9 gennaio, prende il via, e oggi dopo nove mesi di attività possiamo essere felici di comunicare a tutti che abbiamo raccolto più di mille chili di pane e ne abbiamo già distribuiti 800. La distribuzione è fatta attraverso due realtà attive sul territorio, che sono la mensa della parrocchia San Leonardo d'Abbate di San Giovanni Rotondo e attraverso i collaboratori della Caritas Interparrocchiale. Questa proposta di cittadinanza attiva nasce proprio dal basso, da tre semplici cittadini che grazie alla collaborazione di altri operatori permette appunto di veicolare queste piccole offerte fatte nei forni e farle diventare, trasformare in pane sospeso che arriva alle famiglie. Molto bello quello che stiamo vivendo, devo dire che io mi ci sono imbattuta casualmente. La regia tra un attimo vi farà vedere quel barattolo, così vi spieghiamo anche che la raccolta appunto di pane sospeso non è materialmente col pane, altrimenti qualcuno dirà come hanno distribuito i primi chili e il resto si sta indurendo. Non è così, naturalmente noi contribuiamo con dei fondi per appunto poi sfornare quell'alimento che è qualcosa di ineffabile, ecco, dal profumo direi che riconosciamo la sua importanza. Sì, noi abbiamo scelto proprio il pane come strumento per dare il nostro contributo, i cittadini attivi a un benessere sociale. Sono piccoli gesti che possiamo fare, ma ci sentiamo davvero di farlo per questo territorio che ci ha visto nascere e crescere, ci ha fatto diventare cittadini adulti. Abbiamo scelto il pane perché è davvero l'elemento dell'essenzialità e della condivisione, quindi tutti hanno il diritto di avere il pane fresco. È un'idea semplice, ma nel senso bello e importante del termine, però è strutturata bene. Ecco, spiegaci sinteticamente i passaggi di questo progetto. Noi entriamo in un forno a San Giovanni Rotondo, troviamo quel salvadanaio e lasciamo il nostro piccolo contributo. Che cosa succede dopo? Allora, questo contributo viene periodicamente rendicontato e diventa pagamento anticipato per i panifici. Quando si raggiunge un quantitativo notevole di offerte che permette una distribuzione su tutta quella parte di popolazione che è sostenuta dal progetto e dalla Caritas Interparrocchiale, vengono erogati dei ticket attraverso gli operatori. I soldi vengono trasformati in ticket. Queste famiglie, in forma anonima, ricevono questi ticket e possono recarsi presso i forni aderenti all'iniziativa per consegnare il ticket e ritirare il chilo di pane fresco. E da questo grande successo magari nascerà qualche nuova iniziativa? Sì, sappiamo che c'è sempre bisogno di alimentare queste iniziative e queste progettualità. Per il 2024 abbiamo lanciato la proposta Uno per uno adotta una famiglia. Ne vedevamo prima una grafica. Sì, sì, ecco, questa è la grafica. Quest'iniziativa invita le famiglie del territorio sangiovannese ad adottare simbolicamente una di queste famiglie sostenute. Con una piccola quota annuale versata una sola volta per un intero anno di soli 30 euro, una di queste famiglie sostenute potrà ricevere 12 chili di pane, uno al mese. Quindi è per aumentare la consapevolezza e per vivere anche all'interno di ogni nucleo familiare con i propri figli il senso di responsabilità condivisa e bene comune. È molto bello quello che stai dicendo perché poi ci restituisce la misura di quanto ognuno di noi può fare quotidianamente con gesti, se vogliamo, veramente microscopici. Però se tutti quanti ci attivassimo in questo senso... Beh, questo naturalmente è giustissimo. Ma a proposito dell'espressione micro, mi viene in mente appunto che nel nostro tempo ci sono questi micro indicatori che però non so se arrivano ai tanti che dall'alto fotografano le realtà della povertà, dell'inclusione, del volontariato. Voi siete mai stati contattati o comunque fate parte di qualche rete per cui poi tutto questo sarà conteggiato nel PIL? No, attualmente no, perché siamo un'iniziativa giovane, come dicevo, nata nel gennaio di questo anno. Però abbiamo in questi mesi percepito quanto bisogno c'è. La speranza è che davvero ci si possa rendere conto. Quindi per voi il micro indicatore è stato anche di una sofferenza sempre più alta, ad esempio per l'inflazione, ma anche per altre cause da parte di persone che magari prima non avevano bisogno di questo. Assolutamente sì, ma questo lo possiamo percepire tutti perché facendo delle semplici domande alla gente comune e ai titolari dei panifici ci siamo resi conto che prima della pandemia e prima del conflitto russo-ucraino, che come sappiamo tutti ha comportato una lievitazione dei costi, qui a San Giovanni Rotondo un chilo di pane costava 1,30-1,50 euro mediamente. Adesso ci attestiamo mediamente sui 2,30-2,50 euro. Quindi dopo solo tre anni il pane è aumentato, che è un bene, diciamo prima, un bene essenziale, dovrebbe essere garantito a tutti. Diciamo che la guerra arriverà a due anni a febbraio prossimo, ma sicuramente è bella l'espressione lievitare anche in altri ambiti, per esempio quello che diceva lui. Adesso mi viene in mente, Tony, cioè noi dovremmo far lievitare effettivamente la pasta sociale con questi piccoli gesti. Assolutamente sì, bella questa immagine, facciamo lievitare la bontà, quindi grazie a Francesco e agli altri founder del progetto che hanno instillato questo grammo di lievito nella nostra società e che ci spingono a fare del bene. Per cui Francesco ti ringrazio per la tua testimonianza, per questo progetto e vi facciamo tanti cari auguri di buon lavoro. Non solo lo ringrazio, naturalmente lo invito quando ci sarà il momento anche a rilanciare nuove iniziative, ma un piccolo dettaglio, ti ringrazio perché grazie a te per motivi di studio Tony è sceso alla mia altezza, penso almeno. Bene, e con questa piccola parentesi di ilarità noi salutiamo Francesco augurandoli di nuovo buon lavoro, fateci sapere come procedono le cose e diamo la linea alla regia. Grazie Francesco. Grazie. 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 Grazie.